e benvenuti benvenuti monarchici assoluti per chi si fosse perso la live che ho fatto in diretta per i sorteggi dalle diciotto alle venti ecco qua il video dove vi dico la mia su come è andata alla nostra bene amata Inter condivido subito lo schermo così guardiamo le avversarie allora abbiamo preso l'Ipsia con cui giocheremo in casa il Manchester City con cui giocheremo in trasferta l'Arsenal con cui giocheremo in casa il Bayer Leverkusen con cui giocheremo in trasferta poi la Stella Rossa con cui giocheremo in casa lo Young Boys in trasferta il Monaco in casa e lo Spartapraga in trasferta eccole qua eh allora ragazzi scusate la bronchite ormai lo sapete dunque dunque allora anzitutto prima di parlare di ogni cosa iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che eh vi arrivino tutte le notifiche di quando faccio i video o di quando faccio i live live che faremo domani sera o spartita Inter Atalanta mi raccomando vi aspetto quindi 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 sono contento per i siti per chi di voi ha visto la live io volevo i siti perché voglio vendetta sapete che sono un tipo che le cose non se le scorda quindi voglio vendicarmi di quella finale sciacurata dove per colpa di un attaccante che poi in realtà si è messo a fare il portiere non l'abbiamo pareggiata e poi chissà come sarebbe finita un vecchio giuda che adesso è sbarcato alla conti di di parrucchino quindi va bene il siti e l'arsenal poteva andarci meglio e l'altra forte del girone tutto il resto ragazzi vi ricondivido lo schermo tutto il resto è tranquillamente inferiore a noi lo so già sta dicendo Emma Monarche il Barre Leverkusen l'anno scorso è arrivato in finale di Europa League vi ricordo che l'Europa League è il torneo del Bar Margherita perché vi partecipano le quinte e le seste dei campionati vediamo di non scherzare lo so mi starete dicendo sì Monarche ma il Barre Leverkusen ha vinto anche la la Bundesliga l'anno scorso certo perché la squadra che domina il Barre Monaco si è suicidato cioè sono arrivati a fare a cazzotti fra allenatore e cacciatori vedete voi quindi non è nessuno il Barre Leverkusen la Stella Rossa e lo Sparta Praga hanno degli ambienti difficili ma grazie a Dio con la Stella Rossa giochiamo in casa con lo Sparta Praga fuori quello può essere un problema a livello ambientale ma non di rosa di forza cioè di forza di rosa scusate ho invertito per quanto riguarda il Monaco fa parte del campionato francese che sulla cartina del calcio non esiste escluso il PSG eh lo Young Boys non sanno di che forma sia la palla credono sia rotonda o triangolare eh invece è sferica come tutti sappiamo e l'Ipsia è una squadra abbastanza tosta sforna sempre giovani di talento ma noi siamo la cazzo di Inter la cazzo di armata due anni fa in finale di Champions quindi eh il mio pronostico è questo ehm le vinciamo tutte tranne City e Arsenal possono metterci in difficoltà le altre secondo me le andiamo a vincere ok con eh l'Arsenal possiamo tranquillamente vincere anche con City ma lì è molto più difficile soprattutto con City soprattutto con l'Arsenal fuori casa perché giocheremo lì in Inghilterra che non è mai non è mai semplice ok per quanto riguarda eh ragazzi City io sono contento oltre che per la vendetta per un'altra cosa c'è la questione mentale mi spiego io mi auguro che i siti arrivi alla seconda giornata quindi la prima magari fai un esordio in casa e vinci ti porti due o tre punti in tasca esordisci bene poi subito il City perché se noi andiamo a fare l'impresa col City noi andiamo a segnare a tutta la Champions e io so che possiamo farlo so che possiamo farlo quindi vi dico di stare abbastanza tranquilli ovviamente tutti questi discorsi andrebbero abbastanza a puttane nel momento in cui facciamo come lo scorso anno dove su sei su cinque partite del girone scusate sei partite abbiamo mandato cinque volte la formazione dai tre ai nove panchinari era un chiaro segnale che non puntavamo alla Champions ma alla seconda step quindi per far sì che passiamo tranquillamente eh questa questo mini campionato dobbiamo giocare sempre coi titolari ora Marotta ha parlato e ha detto che c'è grande ambizione e che non sceglieremo fra campionato e Champions anzi che vogliamo onorare la competizione e andare più avanti possibile questo mi fa besperare per un motivo signori miei perché quando Marotta parla non è come quegli incompetenti che poi si contraddicono vedi Ibra e tutta questa gente qua Marotta quando parla parla perché è sicuro tant'è vero quando disse nel momento in cui Lautaro c'era in balle rinnovo no no ma ragazzi non rinnova diceva la gente no se ne va Barcellona Real già era già era fuori dall'Inter Lautaro lui disse tranquilli rinnoverà prima della Coppa America e così è stato quindi Tranchi fidiamoci di Marotta Marotta dice che c'è ambizione noi ce la giocheremo la Champions ovviamente ragazzi vi ricordo sempre a tutti voi dite no ma Marotta è presidente comanda chi mette il grano in una società quindi OCTRI evidentemente OCTRI avrà dato mandato a Marotta che poi a sua volta lo darà in Zaghi di puntare sia alla Champions che al campionato quindi di non fare come l'anno scorso dove in tutte le partite del girone mandò i panchinari in campo il mister quindi ovvio 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 che non voglio leggere la mentele nei commenti quando è in campionato perderemo punti perché un conto è schierare sempre la formazione titolare in campionato fino a febbraio come abbiamo fatto l'anno scorso in Champions mandavamo le riserve e in Champions siamo passati i secondi in un girone dove dovevamo passare i primi questo ci ha portato ad affrontare l'atletico e poi ci ha portato anche a uscire fuori perché con l'atletico disinfortunarono Turam nel primo tempo e subito dopo Ciale a Sherby che sono rientrati per la partita di ritorno ma era la prima partita dopo due settimane che erano inattivi tre settimane infatti l'abbiamo pagato l'abbiamo pagata questo infatti siamo usciti perché si sono infortunati si sono infortunati perché giocano sempre hanno giocato sempre tu vuoi andare avanti in Champions devi fare turnover devi andare in Champions titolare in campionato fai molto turnover girando molto allora i giocatori non ti arrivano a febbraio marzo che è il periodo cruciale della Champions massacrati come lo scorso anno quindi dovremmo aspettarci questo dovremmo aspettarci un grande turnover di mister in Zaki e la titolarità dei titolarissimi in Champions se facciamo questo ovvio che andremo avanti perché anche chi fosse super pessimista dice monarca con city Arsenal non vinceremo mai va bene le altre sei le puoi vincere vinte le più forti delle altre sei a mio avviso può vincere anche con Arsenal e le city ve l'ho già detto ma vedremo quindi l'importante è mettere la formazione titolare in Champions e in campionato faccio l'esempio martedì giochi con city e poi sabato domenica c'hai la Roma c'hai la Lazio c'hai la Fiorentina c'hai addirittura la Juve ovviamente devi mettere la titolare con city e in campionato devono iniziare a essere decisivi i vari frattesi Aslani Bissec Taremi che per me saranno un titolare aggiunto deve cercare di fare meglio Arnautovic Carlos Augusto De Frai ok ok questo Zelischi da cui mi aspetto tantissimo le seconde linee ci devono dare una grossa mano a quest'anno come non mai questa è quindi la mia visione sui ratti e i gobbi mi sono espressa in live potete guardarla ma i ratti hanno preso un girone dove non passeranno mai ne hanno due forti le altre sono scarse ma loro sono anche più scarsi quindi ne perderanno parecchie secondo me non faranno più di nove e dieci punti i gobbi hanno un girone a mio avviso facilissimo passeranno tranquillamente hanno avuto una botta di culo non commento Adalanta e Bologna perché Adalanta e Bologna non sono squadre che possono andare avanti perché non esiste una storia di Champions vediamo di non scherzare detto questo per la vostra quindi lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito sulla campanella selezionate in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio i live live che faremo domani sera post partita di Inter Adalanta mi raccomando vi aspetto iscrivetevi al canale e fate iscrivere i vostri amici fatelo per idea dell'algoritmo di YouTube il nostro solito saluto è latino vide te mox forse inter sempre grazie a tutti i nostri amici